Ciao ragazzi siamo con i ragazzi di infiniti racconti Ciao ragazzi, ciao a tutti Link del canale in descrizione Iscrivetevi Subito, immediatamente Adesso, adesso State vedendo il video Iscrivetevi Ti conto che già ieri vi dovevate iscrivere Già in ritardo Però dai, vi perdoniamo Ma stai facendo il video Bravo Bravo Ciao 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 Sono con la lanterna verde Sì È grande Sì Sì è così che voi siete le bravi persone quindi vi regalo un biscotto e una pizza ci vediamo al più presto Grazie per la visione